Eeeh ciao a tutti amici di YouTube, sono sempre io Fabio ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho postato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16, 16 bellissimi capolavori che riguarderei l'Op infinito. Finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari. Perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta. Chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale YouTube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. Finalmente AMD ha rilasciato il suo applicativo desktop anche nello store di Windows 10 che consente la gestione delle schede video Radeon. Questo significa che l'utilità si aggiornerà automaticamente senza dover creare ulteriori processi che vanno a rallentare il PC. Vi ricordo anche che non è la prima app prodotta dall'azienda nel Microsoft Store, circa un annetto fa ha rilasciato vari strumenti per la gestione della GPU su Windows. Per approfondire con tutti i link necessari per lo scaricamento vi lascio in descrizione l'articolo di Windows Blog Italia. Apprezzate il passaggio di tutte queste utility nel Microsoft Store? Fatemelo sapere nei commenti.